La quinta parte del manuale capire come funziona la grammatica dal titolo scrittura e comprensione presenta tre unità che si concentrano prevalentemente sulla scrittura ma hanno importanti riflessi anche sulla comprensione del testo. La prima unità per esempio il testo idea centrale e svolgimento tratta quella che potremmo chiamare la coesione del testo vista da più punti di vista. Il primo punto di vista è quello dell'esistenza di una idea unitaria, sembra una ovvietà, non lo è, conoscendo i testi spesso scritti dai nostri studenti che sugli argomenti a volte pattinano cercando di esprimere concetti che centrano con la consegna ricevuta ma appunto ripeto a volte non riuscendo a comporre un testo unitario quindi ben compatto. Ci sono quindi una serie anche di suggerimenti pratici non solo sui tipi di consegna, sui diversi tipi di consegna ma pratici anche cosa fare davanti alla consegna, cosa fare durante lo svolgimento, gli errori tipici che si compiono nel tentativo di svolgere in maniera coesa e unitaria. Per esempio è importante il capoverso perché il capoverso è quella unità di senso che anche permette di controllare come lo svolgimento sta avvenendo, quindi è molto importante, ci sono gli studenti che non vanno mai al capo e questo è ovviamente un problema. All'interno dell'unità sulla coesione compare anche una parte che di solito si trova nel lessico e cioè i rapporti di significato fra le parole come possono essere la sinononia o i campi sematici eccetera. Perché? Perché anche questo aspetto fa parte della coesione, cioè quando il tema è ben identificato anche il lessico si organizza in quel senso, quindi fa da supporto alla costruzione. Come pure un concetto che si collega alla coesione è quello della progressione del tema, cioè svolgere significa fare anche progredire e quindi vengono esaminati tipi di progressione tematica che sono appunto anche stati studiati nella linguistica sempre al servizio della scrittura. In realtà più che al servizio della scrittura questa parte è al servizio della comprensione, nel senso che riconosce la progressione tematica in un testo consente appunto di controllare la comprensione. Quindi con questo capitolo noi abbiamo messo un tassello in più, la coerenza alla fine della parte quarta, la coesione all'inizio della parte quinta. La seconda unità che invece si riferisce all'efficacia del testo è importante perché i testi non devono solo essere tendenzialmente corretti e scritti in maniera che si capisca dove vogliono andare a parare, ma un aspetto che non bisogna sottovalutare è l'efficacia comunicativa. In questo libro si parla degli aspetti comunicativi, pensiamo appunto alla frase marcata che troviamo ancora nella parte seconda. L'efficacia del testo vista sia da un punto di vista come il tecnico, per esempio gli aspetti visivi del testo, c'è tutta una parte sull'infografica, cioè sull'utilizzo delle immagini nella comunicazione, è oggi importante perché i ragazzi fanno slide di PowerPoint o di altri applicativi, quindi si cimentano con altri strumenti comunicativi che sono per loro familiari, però anche questi possono essere più o meno efficaci se sono fatti secondo certe caratteristiche o no. Quindi tutto questo aspetto del visivo, poi c'è un richiamo alla retorica, anche esso interessante non dal punto di vista della definizione di figura retorica, ma nell'osservazione dell'effetto che certi strumenti, che tradizionalmente si chiamano retorici, hanno sulla comunicazione, non solo quindi letterari, ma anche nella public speaking, qui c'è un esempio che ho preso ancora nel 2015, all'epoca dell'Expo, ma che è interessante, si trova su YouTube, per fare vedere come la comunicazione oggi si serva di una serie di caratteristiche particolari che fanno la differenza tra uno che parla in modo efficace e uno che parla in modo non efficace e quindi anche tra uno che scrive in modo efficace e uno che non scrive. E qui andiamo sull'articolo di giornale detto brillante, di genere brillante, e sulla prosa giornalistica c'è un approfondimento perché la prosa giornalistica deve essere efficace, se no il lettore gira pagina e non legge, quindi la pagina giornalistica sta qui. Da qui anche il testo argomentativo persuasivo, la cui caratteristica è appunto che deve persuadere, qui ci sono una serie di osservazioni anche che centrano con quello che abbiamo visto alla fine della parte quarta, cioè della costruzione del testo. Vado alla ultima unità di questa parte, che è anche l'ultima unità di tutto il manuale, cioè come funzionano i generi testuali. Si parla qui non di tipi testuali, narrativo, argomentativo, eccetera, ma di generi, cioè le tipologie testuali che spesso si fanno o si vengono a scuola, come il riassunto, la parafrasi, ma anche il commento letterario, la recensione, la relazione scientifico-didattica, quindi una serie di testi che vengono facilmente praticati a scuola, per ognuno dei quali si danno anche dei consigli pratici su come renderli migliori. Faccio notare che tutto comincia richiamando però molto brevemente il fatto che dal punto di vista invece linguistico e dal punto di vista dell'organizzazione testuale non va perso nulla di quello che è stato trattato ovviamente nel corso del manuale, quindi c'è un aspetto di costruzione, di flessibilità sintattica, ne stiamo parlando dalla prima unità, c'è il tema di testualità che abbiamo visto nei capitoli, nell'unità, l'ultima della parte quarta e le due della parte quinta, quindi come dire non basta azzeccare genere e sapere come si compone una recensione, bisogna anche avere una sintassi flessibile e la capacità di costruire un testo coerente, coeso e tendenzialmente efficace. Con questo il manuale chiude e spero che possa costituire un percorso organico di costruzione di competenze, di comprensione e di scrittura.